ecco attenzione che sta per arrivare tutti in piedi chat tutti in piedi gentilmente vieni qua arriva la rifine elisabetta allora lunina come stai vieni qua siete mamma un po troppo elegante sei venite più avanti ronni venite più avanti venite qua allora un altro giorno metta ce la facciamo 10 da romano mio nonno cos'è come fare il francesco questo è per te che c'ho l'ha in un buon francesco questo è per te grazie mille grazie mille no 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 francesco ti puzza un po di pieti no sal di sigarette il tuo altro come va la ginnastica allora nonno come stai aspetta aspetta allora siamo qui con i nonnini siamo con puoi dire il tuo nome nonno il mio sito nome nonno e giacomo nonno no 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 hai capito dimmi non ho capito la parola che cosa hai francesco la ginnastica signora come va va bene va bene il dottore il dottore viene domani hai capito ma fa qualcosa anche con te il dottore come io guarda io pago hai capito hai capito ma ci sta hai pagato e ti sei vestito pure bene sei pettinato per bene ma l'altro giorno mi ha mandato affanculo in chat e beh è normale che ci mandiamo spesso affanculo io 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 nonno stavo dicendo parlati meno che lo chat come fare sì 1885 cittadini a uno su più dei 17 ova non ha fatto benissimo sono d'accordo francesco sei stempiato anche tu cosa anche ho detto anche tu ti perdi troppo qua ma come ti perdi troppo qua? ma non ha la barba troppo in basso ma cosa vuoi dire? ma ho capito? ma ho capito? è uno ster... è un... fai venire con i tuoi capelli lunghi fragolino no no allora potremmo raccontare una storia come scusa? fragolino sì non fa ridere non fa ridere se hai chiamato fragolino gentilmente e perché no? oh ma è cattiva eh sono un salonino eh? come si è? zitto 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 che c'è il noso grande ehi... ormai lo sa no diglio ma lui... c'è il noso grande allora nonno potresti raccontarti quella volta che mi sono caccato addosso al mcdonald? no è tanto da pipì ah ok allora va bene potresti raccontare un attimino? mmmm... siamo andati e... aspetta sentiamo sentiamo la donazione al iper di buslago aspetta sentiamo eh no non sentiamo... nonna del rosso nonna del rosso nonna del rosso nonna del rosso chiama la polizia prima Matteo ha fatto un tiro di cocaina oh mamma mia si sai che no ma io... io il ragazzo in questione facciamo... no serio facciamo uso di droghe non è vero assolutamente chat facciamo uso di droghe se no guarda assolutamente no chat facciamo uso di droghe se no gentilmente assolutamente no mettetelo allora no no ma non c'è problema dice un... no 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 guarda guarda chat si 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 che ne sanno loro che ti guardano eh guarda vi faccio vedere come si fa posso farti vedere guarda fuori dalla camera capito? per questo a te dà fastidio se faccio uso di droghe nonno? se fai mi dà fastidio si vabbè è giusto è giustissimo fare uso di droghe racconta la storia senza fare i nomi di luoghi cioè non dire dove eravamo no no eravamo al supermercato si si al mcdonald al mcdonald no al mcdonald e al mcdonald è salito sui giochi dei bambini no in alto e hai fatto la pipì aveva paura? no hai fatto la pipì c'era sotto poi c'erano gli altri ragazzi sotto mamma piovi giù piovi giù piove questo qui è furbo era tutto bagnato è scappato no? e allora la mamma ha detto è quel ragazzo là e io ero là seduto quel bimbo cercavo di difenderlo no? cercavo di difenderlo no? quindi no no non è stato lui anche lui poi l'ho portato via è chiuso poi l'ha pisato in testa e aveva un pisellino c'era quel pisellino eh nonna? no come si è pisellino? ho capito eh? ma sei strozza nonna? c'hai capito? non c'era quel pisellino sono avuto sempre se eri un bambino cosa avevi? il pisellone? vissuto perché mi guardavi il pisellino? e no avevi sulle vabbè io come fai però un bambino si il bambino eh oh oh non fa ridere non così non c'era quel pisellino? normale ho capito ma fa culo fa culo ma che non ho capito follia comunque invece l'altra cosa si può raccontare l'altra volta tipo si è da me che devi andare in bambino eh eh qual è il nome Google eh? bomba eh di stronza sei stronzo no vabbè ho capito lo stavo dicendo ragazzi sentiamo sei molto fortunato hai dei bellissimi nonni un applauso tanti cuori in chat allora stavo dicendo nonna ti ricordi quando ti ho tirato un calcio vuoi raccontarti quella volta che mi ero perso ti ho tirato un calcio sulle palle? ah si? al mare si raccontala raccontala al mare come? alza un po' il tono che ti sente come l'ha? ehi che ci siamo nascosti quando avevi ma state per limonare non ho capito? no non si ricorda non si ricorda ti ricordi alle giostere? cosa hai fatto? alle giostere che mi ero perso io ah sì sì e puoi raccontarla puoi raccontare la storia alla chat? no non lo posso non me la ricordo tu te la ricordi? si allora non ti ricordi ah te la ricordo io non ci ricordo io non ci ricordo sui gommoni i gommoni saliva e noi ci siamo nascosti vicino alle giostre quando lui è sceso non ci ha visto più non ci ha trovato è venuto un mato con tre calci nelle gambe a me ma no capito, ero piccolino e che ti ricalci ma dopo ci pensiamo all'importante ora e vabbè ma comunque per calcio non ne basta stavo dicendo l'altra cosa che il nonno è un amante della storia a te piace la storia e tu qual è il momento storico che ti piace di più cioè quello che ti appassiona di più da studiare ma la storia mi si prete, è tutto no ma è più una roba storica cioè le guerre e cosa ti piace delle guerre una guerra che ti ha colpito la seconda guerra mondiale io mi ricordo perché mio fratello era uno volontariato era il volontario di chi? di chi? bomba ok e cosa faceva? cioè dalla Repubblica di Salato nonna, 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 nonna alza le mani, alza le mani, alza le mani, alza le mani se ti faresti poro poro e Gabriele Zappa sì una un applauso pure, eh la nonna vabbè ma comunque stavano dicendo tu invece non hai mai vissuto la guerra? no l'ho visto mi ricordo e quando abitavo a Brescia io che bombardavano noi andavamo che bombardavano e mitragliavano sai mitragliavano come fare? tutte le pallottole, no? punto bossolina noi andavamo raccoglierli mesi mesi campi ah ok c'hai quindi dei bossoli ancora? e potete tenerli? si parla del ok 45 44 ok tu no no, baby gang o simba? non ho capito baby gang baby gang o simba? bomba e non so quale clover e le ore sì no simba il cantante un saluto romano ai nonni seguiamo sempre la luce simba 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 tu invece nonno che ascolti della nuova musica? come si che? che ascolti? te lo dì eh? ti piace lo di stronzone eh? ah stronzo ti piace lo di la tettona eh? chi ti piace? dimmi una donna del web che ti piace? una donna della televisione che ti piace? con cui ti fareste una bella scopata? un bestiazza eh? un bestiazza che devo dire bestiazza eh? ah bestiazza eh sì bestiazza non è ancora bestiagnato oggi nonno? eh no no di solito bestiagnato come non è vero? eh porto allora nonno se se o cane ha un cane di chi è il cane? se la nonna si ripeti? se o cane o cane ha un cane ha un cane di chi è il cane? non so rispondere se o cane come fare? o cane è una persona o cane è una persona ok? se o cane ha un cane di chi è il cane? il mio cane brava esatto 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 come fare? siiii hai bestiagnato? no eh sì no li ho no che ho detto li ho detto ah li ho li ho ci sa detto li ho li ho li ho chat potete farmi un piccolo check bar e comunicarmi se effettivamente eh ha detto li ho o dio non ha bestemmiato volontariamente no come fare? no eh il cane è di staccato o cane che era una persona ok non è tronzo ecco ho capito? non ha l'uomo con l'uomo allora adesso chiediamo la gente di far entrare gentilmente un po' di droga dove provare sui tipi di droga come fa? dove provare i tipi di droga rgl29 gif di dati grazie mille rgl29 allora adesso per comunque far vedere chi era la signora della tv che piaceva esatto vai dici eh la maria sabrina ferilli no chi li ha definiti no no maria no è una bella vacca no 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 valeria marini come fare carmen russo carmen russo è vecchia beh ma un altro come è un'altra è un'altra no un altro un altro nome shakira belen 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 eh belen possiamo fare un saluto albanese non mi fate così come è così e così esatto brava nonna questo metterlo dentro qui bomba non mi fate così ecco un saluto un saluto un saluto ragazzi un saluto un saluto un saluto un saluto no 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 com'è che fasi tu dall'antipiano guardii al mare Morita che sei schiava fra gli schiavi Vedrai come in un sogno tante nere 45 Perfetto Stavo dicendo Tu avevi 10 anni Come ci si salutava in giro? Non ci salutava Ciao Ah non c'era un saluto? No Mi ricordo che tutti Tutti hanno fatto le braccia no? No 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 Quella roba A Roma forse No 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 Quando no Come fare? Perfetto Nonno alza le mani 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 se ti sei chiamato Lisa Lucchetta Ah nonno Per lo schermo Vediamo Vada l'altra Vada l'altra Vada l'altra Vada l'altra nella baccona hai mai tradito la nonna? grande hai tradito la nonna? non lo sapevi? dormuta 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 sabato non sono potuto venire al dononna vamo! meno male posso dire facciamo entrare un attimino Virginia vieni vieni pure ma fa buona vada al volo ti volevo presentare il mio nonno mi piace Virginia mi piace tutto bene? tutto bene cos'è che hai detto? non le guarda le tette mio nonno ma lo so presentarti ciao hai guardato il culo che ti se ne andavano? eh sì sì che te l'hai visto? è una bella ragazza si metti parli un po' eh no è un po' tipo antipatica no no guarda che è sotto sotto è stronza sì 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 faccia stare perché non gliel'hai detto quando ero fa presente posso dire che c'è il var del nonno? giratevi un attimo gentilmente il var del nonno chat giratemi il var del nonno posso vedere il var del nonno? o ha fatto un saluto a caso o salutando oppure ehm nonno tu posso fare questa domanda se potete? a me da chi si schierava? non so c'è una roba storica che si può chiedere certo ci sono altri tempi tu dove no però era piccolo lui eh si fa dieci anni dieci anni non era praticamente schierato eh no giratemi gentilmente ehm la vostra famiglia com'era schierata negli anni quaranta? la mia famiglia ha dei genitori non gliene fregavano solo un lavoro no no lavoro e stop ah ok erano un po' apolitici erano politici apolitici no tu invece i tuoi il tuo fratello era? il mio fratello si può dire si si bravo posso dire? eh? se si può dire? si può dire si può dire si può dire vai ma ero ero 17 17 anni ero andato in volontario traviato della Repubblica di Salò ok ok tu invece la tua famiglia e nonna? mia famiglia è da molti anni 17 anni sinistra ah ok ok no capito come vi siete conosciuti i nonni? io? discopega eh 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 bisellone con un matrimonio hannovate milanese cioè dai niente i posti qua ormai eh eh non dire città ogni volta che si fa ti viene uno schiaffo di stronzo capito? nel 56 eh sì bravo eh senti che dici eh ma sei grazie mille le bonci vedete che c'è il padre del nonno occhio vediamo che ti ha visto il nonno ti voglio presentare il mio nonno piacere Virginia piacere guarda 시 grazie cosa che ha visto? eh ho guarda che guarda che non guarda so via di tu tori ne puoi dire Ma così tanto? Vediamo Sembra un po' eh Dicono che semiglia Sembra Dicono che semiglia a Totorina È vero eh Sembra un po' eh Semiglia un po' lo libro No per l'amor di Dio È un'offesa per tu nonno però Sì certo non è un bellissimo uomo Quanto era bello un nonno da giovane E quindi vi siete conosciuti al matrimonio? Sì Oh E' il modo di fare La cocaina voglio nonna Voglio una cocaina Voglio una cocaina nonna Voglio troppo la droga Oh raga la droga per favore la droga No sono sera la droga La droga non la droga Voglio la droga nonna Ma la che scemo Oppure tu per schifo Io no 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 Per niente perché non Ti facciamo uno spinale No no facciamo un po' di altri viaggi Capito Sai quando fumo quanto fai Lo fai anche senza Quei versi di lui lo fai anche senza prendere la droga Balloncino? Niente anche balloncino Ma com'è che vi siete conosciuti? Ero rimasto io Alla matrimonio Di mia cugina Cioè tu ti stai sposando e lui No Io sono invitata Bomba Come lui era invitata Come fare Come special guest Nonna ai suoi tempi Mi facevo certi di quei sei con che tette Eh? Come fare In inglese hanno donato Sì 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 No no ho capito Quella ditta No ho capito Come fare Sì Ciao Saluto ragazzi Davide Grazie mille Matteo Gero Segniamo cosa dire Il gel 99 29 Bomba Alza un po' la voce Nonna quando parli Non 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 puoi ripetere Un mio compaesano Ma non è leo Conosco Bomba Non ho capito Così hai detto Sarà qualcosa di Rosso 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 Fai fare il battle di cocaina Al nonno e la nonna Adesso dovete fare un ballo insieme Ok Sì Dovete fare così Guarda sulle spalle Eh occhio Ok Ok vediamo un po le spalle davanti, bravo, ci siamo vai si vede che sto per svenire, nonna allora va bene, va cos'è? va bene, l'acqua perché? se stai venendo perché tu devi parlare no, no, perché prima ho fatto dei tipi di palloncino così a caso sai del palloncino? palloncino? perché ti piacevi? no metti in bocca all'aria del palloncino guarda vai vai no no vai una droga? no vai che cambia la voce, no? ah certo, certo, certo ragazzi esatto, la usiamo per, cioè si usa per quello come è che facciamo un altro giorno? da chi? è la televisione no, non credo si possono fare in televisione, non ho no cioè credo sia una, una, una droga ti abbiamo fatto, ti abbiamo fatto di droghe, non? chiedi scusa, hai mai fattuto di droghe? mai mai hai mai fattuto di droghe? no no, no tu non, no? no, mai sigarette? mai mai? è escort, nonno? no mai prostitute? no cosa ne pensi delle prostitute, nonno? cosa? ne pensi delle prostitute? no, non ho capito cosa pensi? delle prostitute? ma non ci sono più come la oltra no no, no, no vabbè, prima era pieno, eh prima era pieno grazie piena capo di orecchie, no? no, no, no poi che io tutti i giorni facevo il viare Zara con la macchina per il lavoro ah, per il lavoro, eh si dice per il lavoro no, no adesso che la loro non ci sento, ok? sì quante volte hai tre dita? come? quante volte hai tre dita? fammelo sulla mano non ti guarda, non guarda, non guarda non guarda, non guarda, eh fallo sulla dita, fallo sulla dita cronuta! hai capito? bravo sei bravo eh? o che fai per quando io ti metto? eh, ma c'è una domanda è vera la domanda è lecita è vera è vera eh, non lo so bella roba tu no mai ma no, no, no la c'è stupidina che dopo 70 anni di vita potevi fare chiamate una chiamata eh, se lo sapevo che era la facevo anch'io tappati le orecchie, Ronno un attimo, tappati le orecchie no, no non c'è da tappare quante volte hai pensato di tradire il nonno? beh, pensare si pensa che ho pensato sì eh, ma l'amore è questa capito? questa è la dimostrazione che non è vista l'amore per fortuna che non l'avete vista che non è finita che me ne avevate i telefoni per fortuna che se me ne stavano se vede che se vede che vede sentire allora grande non so adesso è il tuo momento di ringraziare dite punto schemativo prime che ne pensi che hai fatto divorzare i nonni dopo 40 anni di patrimonio dopo qualsiasi di matrimonio? sì sì, dopo lo confesso io ne avete già fatti 50 voi? sì sì anche 60 per il nozio d'oro? sì sì si ci siamo sposati nel 61 ok 61 sarà bomba in fatti anni non so mi devo fare ricordo 63 sentiamo cosa dire 63 sì 63 63 nonna 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 sai che il nonno ti ha tradito con l'abbadante tre giorni fa ma che stronza guarda il fuckboy eh? hai visto? hai visto? hai visto? giratevi il fuckboy nonno gentilmente un attimo e prendete spunto tu non hai da giocatore un po' brutto lui era molto bello invece hai visto il mio fotografico? eh lui era un bell'uomo eh lui potrebbe fare il fotomodello eh? ha visto che ho fatto a militare e l'ha visto guarda il fuckboy eh? che antico il corpo mi sono sposato perché ma perché non c'è nessun altro eh sì ti piaceva no? sì hai visto? eh poi qua che sta un po' cedendo eh posso dire poi se dei famigli fa la verità sentiamo salvo cosa dire nonna leggi lo te fa la fube nooo non credo non si nonna ti tutto perfetto eh perfetto adesso mi viene salvo no adesso provo a dire vabbè anche tu anche tu lo tradici nonna c'è una clip dove dici che un dottore viene a casa tua ti mette una volta più volte no no non mi tocca un lì eh eh l'hai detto lei l'hai detto in live? no 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 a 90 ho sentito no 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 gli esercizi gli esercizi sì ma li faccio io da sola lui è da vedere se lavoro bene o collegare la testa e poi tu la dieci minuti avanti e indietro della casa è battuto di fila dieci minuti sì dieci minuti poi passo in letto per i muscoli per i muscoli eh si dice così adesso? e fai i massaggi qui ah sul letto eh sì eh ma scusate ma scusate tu guardi tutto? no io guardo di là sì è venuto là a vedere sì è un po' geloso? no ma perché gli faccia probabilmente questa roba da fare? ma come ti vesti per questa situazione? ma così magari ah quindi poco normale e poi dopo gli do i pantaloni perché ti hai tanti i massaggi per forza no no li tengo sui pantaloni e te li strappa? no addonna signore è l'ora eh un'ora è un'ora allora no un'ora no tre quarti d'ora tre quarti d'ora però posso dire che esiste? come fare? c'è proprio sta bene lì sta bene lì no ma sei pro o contro gli omosessuali? hai capito? no cioè se Matteo un giorno avessi detto mi piacciono gli uomini eh oh pazienza non potrò farvi dei nipotini bomba ci dispiaceva comunque era una sua scelta giusto nonni io sono gay eh è Virginia non ho capito non è eh non ce ne fai è per non farvi a cazzo per non farvi tu cosa vuoi dire? dirglielo 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 la copertura non posso come infatti dirglielo che è una cosa di FUBE in realtà FUBE? lo so che ti baci con tutti FUBE? come fare sì? FUBE? le vuoi bene FUBE? come lo posso fare anch'io un bacio così con FUBE? vai bomba vai un bacio così nonno quando avete chiamato è l'ultima volta è l'ultima volta l'avete provato? c'è Virginia non è la sua vera fidanzata eh sì quante storie adesso dovete far raccontarci no non ci vogliono credere eh no non ci credo no ho visto la cosa sua eh sì ma perché non voleva dirvi che era allora non fare più due facce scegli quello che devi fare tutto scelto lui hai visto che siamo sempre insieme adesso no ma ci sono gli altri anche c'è la no poteva anche non credo tutto bene non ti vedo un attimo scosso no sto ascoltando ah ok ok vuoi dire qualcosa in merito? no non c'è niente no non sto facendo un troppo becca ai tempi d'oro ti mando a far culo no vende sta scherzando sta scherzando no ci state scherzando eh sì lo so lo sta scherzando che non potrebbe starci assieme una ragazza così prendendo in giro no 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 infatti sta scherzando è tutto e tutto uno scherzo ragazzi allora con calma eh no un bacio tra i nostri eh è quello che ti avevo detto ancora l'altra volta quando sei andata in Germania succede no 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 chiamiamo un secondo no c'è effettivo no no povera mamma sì o no un bacio fra i nonni dai un bacino fra i nonni dai un bacino ma che belli una tanti cuori in chat per favore ragazzi tanti cuori in chat veramente belli grazie mille mister magia allora no no adesso dovrete dire dovete fare una piccola eh eh gara di palleggi con le rotule cioè staccate un attimo di te proprio le mie no sto scherzando no no potresti dire ringraziamo le persone che si sappano adesso di punto esclamativo prime punto esclamativo prime e punto esclamativo prime punto esclamativo prime punto esclamativo sub de prime de prime no no punto esclamativo prime punto esclamativo prime punto esclamativo sub e punto esclamativo sub ok adesso di coloro che si sappano colore che si salvano sabano colore che si salvano verrà girata una mia foto di nudo no è mia no 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 questo non lo dico perché se vuoi girare la stella mia si non te la giro non ti ho fatto no sto scherzando puntoscrivativo prime puntoscrivativo sab ragazzi che vi ringrazio un attimino nonnino e nonnino che poi se ne vanno li lasciamo andare che sono un attimino anche stanchi ragazzi posso dire nonno Omar Babic fallo però ma che ora andate a dormire io ho le due viva fanculo perché sto là vaffanculo Omar Babic vai Babic babic ma non assieme go 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 non ci vuoi credere ti voglio credere non ci voglio credere ma nonno ma cos'hai fatto nonno lo vuoi fare anche te no 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 ok puntoscrivativo prime puntoscrivativo sab ragazzi che vi ringrazio i nonni col prime e con la sub costa fate l'ora ragazzi fate l'ora che poi ne vanno i nonni che ci hanno accompagnato per questa mezz'oretta poi avremo Virginia che entrerà poi abbiamo tutti gli altri ospiti allora con calma un attimino gentilmente il nonno sta necintotare grazie mille giu ringrazia Giulio grazie Giulio grazie Giulio bravo bravo ogni volta che si sub ok anzi ogni 5 abbonamenti fai così ok ok quando uno si sub è normale dici grazie Giulio va bene ok adesso vediamo sentiamo cosa dire bomba nonno e nonne vi ricordate il mio discorso fatto dal balcone mentre voi stavate in mezzo alla forna ad ascoltarmi che mussolino no è ciolone si chiama infatti stavo dicendo 10 sub non hanno fa capriola no ragazzi ne deve al minimo 1000 sub perché altri video potrebbero fargli pure il medico stavo dicendo indipendentemente da questo ogni 5 siamo in Irland discoteche nonni volete vedere le discoteche no ma no no andiamo in una discoteche per voi quelle dove si vale il lento eh non posso ti siedi stai seduta vabbè due drink prendiamo no una coca cola coca cola facciamo eh no organizziamola nonno a che pensi lasciate scrivere no ci penso niente ha detto quello che doveva dire che sono una fornuta ma no ma ci è rimasto male eh eh certo ma scherzata certo ma che ti vedono mai eh non mi interessa mai se mi vedono ma scherzata ma si vede che scherzata ecco bimbo del donna eh sì perché altrimenti ringrazia ringrazia bimbo del donna rossino fammi salutare da tua nonna è proprio bobo no no dopo devi farlo col 5 adesso dire grazie bimbo del donna grazie bimbo del donna vediamo il primo che lo fa ragazzi voglio 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 vai Michele Baritaro farlo che ti fa pure il bocchino ti fa pure il bocchino il bombin che hai detto ma è scemo ma là che scemo va dimmi una frase nel dialetto nonno dialetto ma oramai non ci ricordiamo più proprio il dialetto io il mio dialetto come fa Brizio Brizio 17 buonasera lei sì lei sì Brizio Brizio 16 grazie Brizio grazie Brizio bravo vediamo un attimino Michele Baritano che adesso fa partire 5 buonamenti e la nonna fa il saluto così poi li salutiamo di che lei che la nonna non vede l'ora di fare eh infatti banco ma è il tuo momento eh è il tuo momento di spingere allora il nonno non lo prende indirizzo di chi fa 5 salve lo pulla vabbè indipendente per questo nonni e mentre vi saluto ok è stato molto bello voglio ringrazi che bravi nonni grazie alza le mani 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 ecco Grazie Messia Grazie mille Simba Soda per i cento Grazie mille Matteo Allo per il Prime Allora un saluto ai nonni che Ringraziamo i nonni per essere passati Posso dire? Ringraziamo tanti inquari chat per i nonni Vi accompagno un attimino fuori Rimane di te Fubbio qua con loro Se voglio accogliere Virginia Accogliela pure Me la chiami? Sì sì adesso la chiamo È stato un piacere Ciao Grazie Grazie mille Nonna Vi accompagno fuori Occhio Grazie a voi Ciao ciao Vedi qua nonni